La Toscana è formata per il 25% da territorio montano, dalle montagne degli Appennini con le stazioni scistiche, passando per le riserve naturali, i boschi, le foreste e i piccoli borghi incastonati tra le colline, come il territorio della montagna pistoiese, un territorio da salvaguardare ma anche da valorizzare, di cui fanno parte i comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese. Il territorio montano è una parte importante della nostra regione che però rischia di essere abbandonato con un graduale spopolamento. Per questo la regione vuole rilanciare un nuovo percorso per la valorizzazione della montagna che è da considerare non solo per il suo ruolo di presidio idrogeologico, di protezione dai mutamenti climatici, ma anche come risorsa umana, economica e ambientale da innovare e incentivare. Noi dobbiamo fare politiche integrate, quindi mettere insieme più assessorati che riescono a dare una risposta comune. Mi viene in mente il mio assessorato che riguarda agricoltura e politiche della montagna, ma l'assessorato che riguarda per esempio la sanità e sociale, il turismo e il commercio, le infrastrutture, l'ambiente. Quando si parla di montagna si parla di un qualcosa di vivo, di bello, ma che merita sicuramente attenzione. Per lo sviluppo delle zone montane per la regione c'è da lavorare sulle tipicità e le opportunità come quelle del territorio boscato. La regione toscana ha sempre guardato con interesse a questa realtà, in particolare nelle scelte di politica forestale e con i programmi forestali regionali. Quindi per esempio rafforzare molto l'aspetto legato alla filiera bosco, legno e energia. Per questo stiamo negoziando con la Commissione europea e la risposta l'avremo proprio a brevissimo, nel prossimo mese, nel mese di giugno, anche la definizione di appositi fondi all'interno del piano di sviluppo rurale, 10 milioni di euro, per valorizzare piccoli impianti a biomasse che vengano principalmente dislocati sui territori montani, laddove non c'è metanizzazione e laddove anche l'aspetto dell'inquinamento delle PM10 non ha, diciamo così, un'incidenza forte. Ha invece un impatto positivo perché in un'area assolutamente compatibile è in grado di assorbire le emissioni dell'impianto, ma allo stesso tempo può produrre tutta una serie di vantaggi di tipo economico che in montagna sono assolutamente necessari. Quindi un tema da sviluppare con il buon senso, come tutte le problematiche e le opportunità con le quali ci misuriamo tutti i giorni e che quindi deve essere calato in un territorio che non è lo stesso da tutte le parti e che vive problematicità diverse, però sicuramente una grande leva di sviluppo sulla quale credo sia giusto che la giunta regionale si impegni in maniera profonda. Attivando così la filiera forestalegno creando occupazione per i territori montani. Oltre che avere un vantaggio di carattere ambientale è anche di carattere economico. Vuol dire dare l'opportunità ai comuni e quindi ai residenti di quei comuni indubbiamente di poter gestire anche in maniera economica alcuni tipi di processi. La produzione di biomassa e il suo impiego a fini energetici rappresentano un fattore di sviluppo del territorio che mira a perseguire obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. La manutenzione dei boschi e il conseguente impiego delle biomasse legnose consente di mantenere i territori rurali vitali e ad invertire fenomeni di abbandono. L'abbandono vuol dire degrado, vuol dire chiaramente problemi di carattere di tenuta idrogeologico dei territori, vuol dire creare delle ferite che spesso sono difficilmente riparabili. Se noi vogliamo che questi territori siano visitati, siano vissuti e si dia veramente uno spaccato della Toscana, perché anche questa è Toscana, vuol dire allora noi abbiamo il dovere come amministratori regionali di trovare soluzioni e di farlo insieme alle comunità locali. Ecco, magari meno idee, più fatti. In campo forestale l'abbandono è una delle principali cause dei fenomeni negativi come il dissesto idrogeologico. Il preservare il nostro bosco e la nostra montagna è una delle ricette base che va appunto come iniziativa di contrasto ai cambiamenti climatici, va anche nella direzione di avere una politica di difesa del suolo molto più efficace, perché noi possiamo immaginare di fare tutte le opere strutturali che vogliamo, le casse di espansione, gli argini, ma se a Monte non abbiamo un territorio gestito, appunto controllato, che sappia contrastare anche i fenomeni nel momento in cui si verificano, è chiaro che diciamo poi si perde una cornice unitaria nella quale appunto si vanifica anche l'efficacia poi di una visione. Poi c'è l'aspetto legato alla multifunzionalità delle aziende agricole montane e come valorizzare le produzioni agroalimentari della montagna. Abbiamo la necessità di rafforzare la rete fra questi produttori, quindi valorizzare le produzioni tipiche di questi territori che siano legate all'identità e alla storia e alla cultura di questi territori. Mi viene in mente l'aspetto legato all'apicultura e quindi alla produzione del miele, come mi viene in mente per esempio l'aspetto della castagna, come di altri tipi di produzioni, il farro stesso, ma altri tipi di produzioni che sono produzioni di nicchia, molto piccole, molto poco dimensionate, ma che offrono opportunità a chi le fa su questi territori anche di ricavarne un reddito. Valorizzare le produzioni tipiche di questi territori vuol dire creare reddito e evitare lo spopolamento. Certamente la montagna oggi è afflitta, ormai da tempo, da un progressivo spopolamento e quindi bene fa l'assessore Remaschi con il piano di sviluppo rurale a cercare di invertire questa tendenza sostenendo fortemente il ritorno a un'imprenditoria, soprattutto sostenendo l'imprenditoria giovanile, che possa sviluppare in quelle zone nuove attività, nuovi insediamenti, fra l'altro in un momento nel quale le produzioni tipiche, la filiera corta, le produzioni di qualità incontrano effettivamente nuovi mercati, nuove opzioni e quindi credo che non sia semplicemente un esercizio o un tentativo, ma sia veramente dare una visione di sviluppo concreta anche per quelle zone. Ma la montagna pistoiese e anche neve esci con le piste del comprensorio della Betone. La Regione Toscana, attraverso bandi regionali, ha messo a disposizione risorse per progetti di adeguamento degli impianti sciistici toscani. Abbiamo diverse piste, voglio dire, in Toscana, sulle quali chiaramente anche qua influiscono molto i cambiamenti climatici, tant'è che nel corso degli ultimi anni più volte siamo dovuti intervenire con l'assegnazione di risorse straordinarie per fare in modo che chi gestisce gli impianti impianti di risalita e anche purtroppo chi vive di commercio e di turismo in queste zone e quindi fa fatica quando non nevica oppure nevica fuori stagione e si perdono delle grandi opportunità, anche questo è un'altra cosa sulla quale dobbiamo ragionare. come, non su come gestire, diciamo, l'aspetto degli impianti di risalita o dell'aspetto delle nevicate o delle non nevicate, ma come in queste aree poter svolgere anche attività collaterali che non siano solo legate a questo tipo di economia, che è sicuramente un aspetto di rilievo nella nostra regione. Il tema montagna, foresta, agricoltura e sostenibilità ambientale e contrasto ai cambiamenti climatici mette insieme aspetti molto diversi ma legati da un filo conduttore comune che rappresenta la sfida dei prossimi anni, gestire il territorio garantendo contemporaneamente la sostenibilità e il reddito di chi ci lavora. Per fare questo dobbiamo partire dalla condivisione di chi territori li vive, le istituzioni locali, nel valorizzare le aziende che hanno deciso di investire in questi territori e di cercare nell'ambito dei bandi di mettere, diciamo così, dei punteggi più alti per l'assegnazione di risorse a chi fa certi tipi di attività nelle zone montane e collinari. Fare questo vuol dire, insomma, dare un'opportunità anche a questi territori e credo che veramente abbiamo la necessità, diciamo, di metterci la testa. Lo dico in un momento nel quale il riordino istituzionale che è stato messo in campo oramai già da diversi anni ha portato ad una graduale disgregazione e a un indebolimento, diciamo così, delle istituzioni locali, quelle più piccole che hanno meno forza e meno potere. Beh, noi dobbiamo dare voce anche a questi territori e poi oltre che voce dobbiamo dare risposte concrete.